La Juve crede ancora allo scudetto e ne ha ben d'onde perché recuperando anche il match contro il Napoli potrebbe arrivare a pochi punti di distanza dall'Inter. Battere lo Spezia non è stato semplice ma d'altronde non lo è per nessuno perché è una squadra che parte sempre dal basso con il possesso palla che nonostante la rosa meno pagata della Serie A, questo non vai di mai dimenticato, sta disputando un campionato dignitosissimo e che ti imbriglia perché comunque è tatticamente organizzata benissimo da italiano. Nonostante tutto questo la Juve ha vinto 3-0, non è facile vedere lo Spezia perdere con questo passivo, con reti di Ronaldo e Chiese qui abbiamo solamente delle conferme e finalmente è tornato al gol Morata che evidentemente sta smaltendo il virus che lo aveva debilitato nei match precedenti.